Volevo un attimo inquadrare un argomento che è abbastanza difficile, abbastanza complesso, perché in Russia sono anni di gran fermento, non solo politico, come man mano vedremo, ma anche culturale. Quindi l'idea mi è venuta un momentino per focalizzare l'attenzione su questo periodo. Nei primi decenni del XX secolo la vita culturale russa è particolarmente effervescente, fin da quando il regime era ancora in mano allo zar. Molte voci si levano contraddittorie, moderne, innovatrici, ancora prima della rivoluzione del 1917, quella che porta al potere Lenin e i marxisti-veninisti, gente dalle idee chiare e dai fatti altrettanto decisivi. Il protagonista assoluto di questo periodo culturale è Vladimir Majakovsky, poeta e pittore, illustratore e drammaturgo, quindi operatore di cultura a tutto campo. Ci sono delle sue opere anche in mostra. Ma qui parliamo di arte, di pittura soprattutto, e quindi iniziamo questo escursus affermandoci in un primo tempo sui movimenti artistici già presenti in Russia prima della rivoluzione, quindi sulle ripercussioni che la rivoluzione ha avuto nell'arte per concludere sugli sviluppi della pittura russa ai tempi del regime stalinista. Lo schema pare un po' rigidino ma sarà invece oggetto di infinite divagazioni e lo vedremo perché i partecipanti di questi movimenti spesso cambiano e in ogni caso si conoscono. In quegli anni in Russia la storia si evolve in fretta e da lì nascerà appunto l'Unione Sovietica destinata successivamente a scomparire nel modo in cui tutti conosciamo. C'è quindi gran fermento culturale nella Russia del primo decennio del XX secolo e sono gli anni del futurismo. In Russia il futurismo si esprime soprattutto attraverso la corrente del cubo futurismo che compare nell'aprile 1910 con l'almanacco Il Vivaio dei Giudici redatto tra gli altri da David Burliuk e da Velimir Clebnikov organizzatore di cultura e poeta il primo, cioè Burliuk e lo ritroveremo, poeta originale e bislacco il secondo. Clebnikov trascorre gran parte della sua vita vagando per la Russia, sia prodigo, squatrinato, spesso affamato. Originale per le sue iniziative, si inserisce nel clima del futurismo russo apportandovi una notevole carica di idee strampalate, utopistiche, folli. Per darvi un'idea appunto del personaggio accenno al fatto che lavora alla creazione di un linguaggio universale e alla ricerca anche di corrispondenze numeriche tra gli avvenimenti storici. Suggerisce di introdurre le scimmie nella famiglia dell'uomo dando loro diritto di cittadinanza. Mi veniva in mente ieri, pensando a quest'idea, pensate a quest'ora i nostri politici dibatterebbero del gorillum e non di quelle robe che stanno facendo. Forse il gorillum sarebbe più serio. Ecco, comunque. Propone di eleggere l'Islanda a unico luogo di guerra, bellissimo, li fichi tutti lì e si scambiano fra loro, e di risolvere il problema dell'alimentazione dei popoli mediante la bollitura di laghi colmi di pesci per trasportare poi questa zuppa congelata nei diversi luoghi della terra. E inoltre l'inventore dell'alfabeto stellare, secondo cui ogni suono o lettera sottintende un prototipo immagine, cioè la consonante iniziale condiziona semanticamente l'intera parola, mentre le parole inizianti con la medesima consonante sono tra loro associate da una tendenza comune. È meglio non ridere troppo, perché di personalità anche un pochino stravagante, un po' bislacche come quella di Slebnikov, che si nutre l'avanguardia. Nel 1911 Majakowski conosce David Burliuk, quello di cui abbiamo parlato prima, nei locali dell'Istituto di Pittura, Scultura e Architettura di Mosca, che entrambi frequentano. Vladimir è a Mosca dal 1906 e dal 1907 iscritto al partito bolscevico. A solo 14 anni verrà nato nel 93 a Baghdadi, villaggio della Georgia. Nel dicembre del 12 viene pubblicato Schiaffo al gusto del pubblico, in pratica il manifesto del cubo futurismo, che rinnega i classici proponendo una radicale rottura nei confronti del passato. Il manifesto è firmato da Burliuk, da Majakowski, da Chlebnikov, da Kamensky ed è considerato il momento iniziale del futurismo in Russia. 1912, il manifesto di Marinetti è ben precedente. Negli anni immediatamente successivi il gruppo dei futuristi russi andrà infoltendosi. Considerate anche la frenetica attività di divulgazione dei nuovi principi intrapresa dai fondatori. Non da Chlebnikov, che non ama parlare in pubblico e che spesso interrompe la lettura dei suoi versi con un frettoloso eccetera eccetera. Burliuk e Majakowski invece si cimentano con una lunga tournée di serate attraverso la Russia, allora usava così. Nel corso della quale giunge anche nel 14 Filippo Tommaso Marinetti, accolto con tutti gli onori dai notabili locali. Marinetti tiene conferenze a Mosca e a San Pietroburgo ed in quelle occasioni a Majakowski e ai suoi amici antibellicisti convinti viene impedito di prendere la parola. Si respira un clima di distacco quindi tra Marinetti e il drappello di poeti russi che si agitano in nome di un concetto di futurismo che in Russia ha la peculiarità del legame con il passato a differenza del nostro futurismo. Ben più stretti sono invece i legami degli artisti moscoviti con Berlino. La Germania infatti prima della grande guerra in Germania ospita almeno 100.000 russi alla ricerca di migliori condizioni di vita oppure esiliati per motivi politici. Gli scambi culturali tra Mosca e Berlino sono quindi intensi quando la capitale germanica è in pratica la culla dell'espressionismo tedesco. Un altro sguardo va rivolto alle popolazioni più periferiche dello sterminato impero russo, laddove si fanno più forti le contaminazioni culturali con le civiltà autotone quasi ai confini con l'Asia, anzi decisamente anche in Asia. Ecco adesso è venuto il momento un attimo di parlare del cubo futurismo russo. Cubo futurismo quindi uno degli aspetti più ricchi del movimento che sa associare le istanze innovatrici del futurismo con le indagini sui volumi proposta dal cubismo di Pablo Picasso e di Giorgio Brac. All'inizio i pittori russi di avanguardia si raccolgono in due gruppi, l'Unione della gioventù di San Pietroburgo con Filonov, la Rozzanova e altri, la cui prima esposizione risale al 1910 e il fante di quadri di Mosca da cui nel 912 uscirà il gruppo Coda d'Asino, Chagall, Larionov, Goncarova, Malevich, Tatlin, tutti i nomi che ritroveremo. Ecco soffermiamoci un attimo sull'Unione della gioventù che organizza cinque mostre, che pubblica tre raccolte di saggi e organizza dibattiti pubblici e spettacoli teatrali. Una delle principali esponenti è Olga Rozzanova, moglie di Krucenic, morta giovanissima di tifo. Nel manifesto da lei siglato si legge, dichiariamo valide tutte le strade tranne quelle già battute e imbrattate da una quantità di piedi altrui e apprezziamo solo quelle opere che con le loro innovazioni generano in chi le guarda l'uomo nuovo. Il cubo futurismo russo, caratteristiche quindi dicevamo tutte particolari. La sensibilità verso i volumi e la consistenza della figura. Se puoi andare un attimo alla prossima, si ha già un'idea del cubo futurismo, questa è la Goncarova, comunque ci dà l'idea proprio di cosa è il cubo, della differenza. Il nostro futurismo è tutto intento a voler rappresentare in qualche modo prima la velocità, poi la meccanicità della vita industriale, qui invece abbiamo un ritorno alle origini. La predilezione vediamo per il colore intensi e allegri è molto importante e lo vediamo anche qui in legame con le radici tradizionali della terra. Così i pittori russi si infervorano per le icone e per le insegne delle botteghe, per gli utensili e addirittura anche i giocattoli popolari. Per vecchie stampe popolari, i cosiddetti libichi, i ricami degli abiti tradizionali persino. Majakovsky sottolinea, una pleiade di giovani artisti russi, Goncarova, Vuryuk, Goncarova è quella che ha dipinto questo quadro, Larionov e altri, ha già cominciato a risuscitare l'autentica pittura russa, la semplice bellezza degli archi sui finimenti, delle insegne, le antiche icone di artisti ignoti, non meno notevoli di Leonardo o di Raffaele. Anche la letteratura si adegua al nuovo corso e la poesia diventa fatta di parole trattate come veri e propri oggetti, non soltanto quindi espressione di concetti o di sentimenti. Con una certa sintonia qui con le parole in libertà di Filippo Tommaso Marinetti e con l'onoma lingua, se ve la ricordate, di Fortunato De Pero, nasce il linguaggio transmentale dove, come spiega Angelo Maria Ripellino, autore tra l'altro di questo libro Majakovsky, il teatro russo dell'avanguardia, che è un po' diciamo la Bibbia per chi voglia approfondire questo periodo storico, dice Ripellino, al vocalismo, alle liquide dei simbolisti i nuovi poeti sostituiscono intrecci di consonanti ficative, di striduli fonemi, di rauche allitterazioni. Le parole, prima sommerse nel fluire del canto, divennero quasi tangibili, sporgendo come scogli nell'alveo di un fiume disseccato, quasi un lettrismo antelitteram, insomma, del lettrismo se vi abbiamo parlato, dove era tutto un movimento letterario, e anche non solo letterario, tutto centrato sulla parola, sulla parola anche come, sulla parola non solo come simbolo, ma proprio come segno grafico. L'avanguardia russa, quindi trainata dal genio effervescente di Majakovsky, si inserisce negli analoghi e contemporanei movimenti europei, pur conservando alcune caratteristiche peculiari. Comuni agli altri movimenti sono ad esempio l'unità tra le varie arti e l'esigenza di unire l'arte alla vita. Caratteristiche peculiari sono il pacifismo e il richiamo alla tradizione popolare. Adesso ci soffermeremo sulle singole personalità di quegli artisti che hanno caratterizzato questi anni eroici di sperimentazioni importanti e decisive. Siamo sempre prima della rivoluzione bolshevica. Se puoi tornare indietro, perché iniziamo dai già citati Natalia Goncarova e Mikhail Larionov. I due artisti si conoscono nel 1900 e iniziano un sodalizio artistico e sentimentale che parte dal primitivismo, l'abbiamo visto, della Goncarova, cioè dal recupero e dalla valorizzazione della tradizione popolare russa per arrivare al raggismo. Qui vedete un'opera di Mikhail Larionov che è proprio un'opera tipicamente raggista. Il raggismo, teorizzato intorno al 1910 e ufficializzato nel solito manifesto nel 13, è un modo di far pittura del tutto staccato dalla realtà oggettiva. Lo vedete bene. Siamo infatti negli anni del nascente astrattismo. Il raggismo, teorizzato dall'Arionov, dove il raggio è rappresentato da una striscia di colore, assonanze con le compenetrazioni iridescenti di Giacomo Balla. Secondo quanto scrive Arionov, il raggismo si pone come primo scopo quello di rivelare le forme dello spazio che possono prodursi là dove si incrociano i raggi riflessi da oggetti diversi, forme create secondo il volere dell'artista. Quindi nell'astrattismo la soggettività dell'artista è fondamentale. Non importa più quel che si vede, ma importa rappresentare quel che l'artista vede, sente e pensa. Il raggismo si pone come una sintesi di cubismo, futurismo e orfismo. Soprattutto a partire dal 1915, anno in cui l'Arionov e la Goncarova si trasferiscono definitivamente a Parigi. Nella capitale francese collaborano tra l'altro anche con i balletti russi creati da Sergei Diaghilev, non solo balletti e coreografie, ma opere d'arti a 360 gradi che attraverso gli anni vedono impegnati numerosi artisti, tra i quali anche Pablo Picasso. Qui ce n'era un articolo qualche giorno fa sulla stampa su Diaghilev, la rivincita della decadenza. Così il padre dei balletti russi svecchiò la cultura russa di inizio novecento. Prima di trasferirsi a Parigi e prima di iniziare con i balletti russi, anche Diaghilev aveva partecipato ai movimenti di avanguardia, che è proprio un magma molto complesso, che è bene sottolineare, dove gli artisti si spostano da un campo all'altro e lo vedremo ancora. La Goncarova si può andare avanti. Va ricordato anche un altro artista, Ciurlionis, ma meriterebbe tutto un discorso a parte. Qui invece torniamo alla nostra Goncarova, che appunto come vedete predilige, più si interessa parecchio alle radici russe e contadine della sua patria, mentre il marito, l'abbiamo visto, è invece più interessato alla sperimentazione rancista. E veniamo a un altro artista molto importante nella genesi dell'astrattismo, Kazimir Malevich, uno dei protagonisti assoluti appunto dell'arte astratta. Molto attivo nei gruppi dell'avanguardia russa dei primi anni del 1900, Malevich viene inventato ad esporre alla seconda mostra allestita a Monaco dal Cavaliere Azzurro, di cui avremo occasione di parlare in seguito a proposito di Kandinsky. Nel 1913 Malevich disegna scene e costumi per l'opera La vittoria del sole di Krucenik, che è il marito di Olga Rozanova, di cui abbiamo già parlato. Ed è in questa occasione che prende inizio il cammino di Malevich verso l'astrattismo, dopo che il pittore ha già vissuto una breve stagione simbolista ed una cubo futurista, dipingendo soggetti legati a lavori contadini, grazie comunque manuali. Scrive Yolanda Nigro Covre. Delle scenografie di Malevich sono rimasti disegni per lo più non propriamente astratti, ma costituiti da un linguaggio futurista fortemente semplificato e geometrizzante presente anche nei costumi. Si tratta del più immediato antecedente del famoso, e lo vediamo qua, quadrato nero su fondo bianco, esposto per la prima volta nel 1915 alla mostra 0,10, ultima esposizione futurista a San Pietroburgo. Kazimir Malevich a questo punto entra ufficialmente a pieno titolo nel variegato mondo dell'astrattismo. Inizia qui anche il suprematismo, movimento ipotizzato dallo stesso Malevich e il linguaggio stransmentale non è dettuto estraneo alla genesi di un'opera che mira a rappresentare la realtà ridotta alla sua forma essenziale. Se puoi andare avanti... Infatti ci vede in fretta. Ecco, questa è un'opera di Malevich che è molto bello, riferibile al suo periodo cubo futurista. Contemporaneamente procede l'attività saggistica del pittore che nel XVI pubblica la terza stesura, chi lo vuole leggere è qui, di Dal cubismo al futurismo e al suprematismo. Documento importante per comprendere l'estetica del pittore. Vi ci leggono brani come questi. Gli oggetti si sono dileguati come fumo per una nuova cultura dell'arte e l'arte procede verso l'autonomia della creazione, verso il dominio sulle forme della natura. E poi il pittore può essere creatore solo quando le forme dei suoi quadri non hanno nulla in comune con la natura. Pensate al quadrato nero su fondo bianco. E infine, ma io mi sono trasfigurato nello zero delle forme e sono andato al di là dello zero, cioè verso il suprematismo, verso il nuovo realismo pittorico, verso la creazione non oggettiva. Se puoi andare avanti, avevamo un'opera di Malevich, questo tipico del periodo suprematista. Ecco, il suprematismo conoscerà successivamente una fase colorata che è questa, più dinamica ed una monocroma, dove spiccano sia il bianco su bianco che la sede di progetti architettonici degli Architetton, quindi siamo intorno al 1920, e dei Planet negli anni successivi. Va inoltre ricordato che Malevich disegna scene e costumi per la commedia Mistero Buffo di Vladimir Majakovsky, ancora lui, che va in scena per la prima volta nel novembre del 1918 con la regia di Svevolod Meyer, cioè il regista russo che morirà fucilato nel corso delle purghe staliniste, a lungo compagno di strada di Majakovsky. Si tratta di un'opera un po' troppo appiattita, mi riferisco a Mistero Buffo, un po' troppo appiattita sui fatti di cronaca e soltanto in seguito ripresa dall'intuito geniale e teatrale di Dario Fo. I personaggi del Mistero Buffo di Majakovsky sono sette paia di puri, genericamente identificabili come borghesi, e sette paia di impuri, ovvero lavoratori, tutti travolti da quel diluvio che a sua volta crea una dinamica conflittuale tra i due gruppi. I puri eleggono il loro sovrano, gli insoddisfatti impuri si affidano invece all'uomo comune che li guida trionfante verso la terra promessa, ben inteso dopo aver attraversato la noia del paradiso. La terra promessa non è che la rivoluzione e l'uomo comune non è un messia, ma viene ad identificarsi con la figura del poeta, l'artefice di un mondo nuovo e luminoso colmo di promesse. Le illusioni generate dalla rivoluzione bolshevica qui appaiono fin troppo evidenti, c'è un grande esplosione di entusiasmo al momento della rivoluzione e poi vedremo cosa succederà. Nel 1920 a Vitebsk, che poi è la città natale di Marc Chagall, Malevich è l'ispiratore del gruppo suprematista Unovis, sostenitori della nuova arte, chiuso da autorità soltanto dopo un anno. Nel 1922 Malevich si trasferisce a San Pietroburgo, realizza una deliziosa serie di tazze, teiere e semitazze ispirate dal suprematismo, sono bellissime, per la fabbrica, semitazze staccate in due, per la fabbrica, sì non servivano a nulla, per la fabbrica statale di San Pietroburgo. In seguito insegna all'Istituto di Stato della Cultura Artistica, sempre a San Pietroburgo, in compagnia di Tatlin e di Filonov, di cui avremo occasione di parlare in seguito, dopo aver esposto anche alla Biennale di Venezia del 1924. L'Istituto verrà chiuso per volontà del regime nel 1926 e l'artista è costretto a trovare un temporaneo insegnamento di ripiego. La produzione artistica di Malevich nel periodo finale, nell'ultimo periodo, conosce ripensamenti e rivisitazioni creando anche dubbi sia circa l'orientamento spaziale delle opere astratte, cioè banalmente circa la direzione in cui vanno appese, cioè ci sono dei grossi problemi, sia circa la loro datazione. Malevich ripensa al passato e la sua opera pittorica tarda registra un vago ritorno alla figuratività degli esordi, dando comunque la sensazione che la sua energia creativa fosse stata prosciugata dai momenti più eccelsi di quel suprematismo che lui stesso fa iniziare verso appunto il 1913, quando disegna scene e costumi per l'opera futurista Vittoria sul sole, contesto di Krucenic, marito della Rozzanova, e prologo, qui ritorna, di Velimir Chlebnikov, quello della cittadinanza del Gorillum, diciamo. Nel 1927 Malevich viaggia in Polonia e in Germania dove visita la Bauhaus a Dessau. Nel 1930 viene arrestato in patria per i suoi rapporti con gli artisti tedeschi e quindi rilasciato. Muore di cancro nel 1935 e riceve un esplicito tributo alla sua genialità per via di una bara e di una tomba, se poi le volete vedere qui ci sono le foto, concepite in puro stile suprematista. Malevich dunque si spegne vent'anni dopo aver dato un contributo fondamentale alla nascita dell'arte astratta, con quel quadrato nero su fondo bianco che resta una delle pietre miliari della storia dell'arte, piaccia o non piaccia, è così. Se puoi andare avanti. Amico di Malevich è El Liscinski, da primo suprematista, qui vediamo una sua opera suprematista, e poi costruttivista, vedremo cos'è il costruttivismo. Artista poliedrico, pittore dal tratto geometrico deciso, lo vediamo, acceso sostenitore dell'unità di tutte le arti alla perenne ricerca dell'esperienza della totalità, secondo il titolo della bella rassegna che il Mart di Rovereto gli ha dedicato nel 2014. El Liscinski è anche noto per i Prown, stazione di transito dalla pittura all'architettura, secondo la definizione dell'artista stesso, in sostanza erano dei modelli, realizzati soprattutto all'epoca del suo soggiorno a Vitebsk, tra 1919 e 1920, all'indomani della rivoluzione bolshevica. Se puoi andare avanti. Per favore, grazie. Pavel Filonov, ci sono delle sue opere in mostra, è artista non eccentrico, dedito allo studio dell'arte analitica che intende sintetizzare ideali spirituali, religiosi e rivoluzionari. Lo fa teorizzando la fioritura universale, cioè un'esperienza di creatività insieme mistica e materiale, affascinante nei risultati che vanno soprattutto guardati. Tra tutti gli artisti dell'avanguardia, Filonov è quello che può vantare il maggior numero di allievi e alcuni di loro gli resteranno vicini anche quando la sua scuola verrà messa fuori legge. Se Stalin non guardava in faccia nessuno. Filonov riesce a scomporre l'esperienza cubo-futurista in una colorata avventura sensoriale e psichica, e qui lo vediamo, attraverso tasselli di colore che dal mosaico rimandano ad una più attenta penetrazione psicologica oltre che puramente tecnica. Anche poeta e scenografo nel 1923 fonda il gruppo dei maestri dell'arte analitica che si propongono di fare della pittura una vivace esperienza appunto dei sensi e della psiche. Se puoi andare avanti per piacere. Qui passiamo ad Alexandra Ekster, una donna insieme di donne, abbiamo già parlato della Rozzanova, della Goncarova e qui parliamo di Alexandra Ekster, pittrice, artista a tutto campo in quanto si occupa anche di teatro, di moda e di arredamento di interni. Viaggia spesso a Parigi dove si trasferisce definitivamente nel 1924. Vicina alla Goncarova e all'Aryonov si accosta al suprematismo. A Parigi frequenta il poeta Guillaume Apollinaire e i coniugi Robert e Sonia Delonais. Anche Sonia Delonais si occupava per esempio anche di pittura, anche di tessuti colorati. Legata ad Ardengo Soffici, insieme con lui viaggia in Italia, in particolare attratta dall'arte etrusca. Ecco, la rivoluzione bolshevica, lo abbiamo detto, suscita un grande entusiasmo tra gli artisti dell'avanguardia russa, da tempo convinti della necessità di un radicale rinnovamento in campo artistico. La rivoluzione del XVII giunge opportuna per sprigionare energie latenti e per liberare idee nuove. A causa del conflitto in corso, di una guerra mondiale, anche Mark Chagall e Vassili Kandinsky si trovano in Russia in quegli anni e partecipano attivamente alla vita artistica russa all'indomani della rivoluzione, prima di lasciare definitivamente la madre patria con destinazione Berlino e successivamente Parigi. Ed è proprio a Mosca nel 1916 che Kandinsky incontra Nina, parecchio più giovane di lui, la donna che gli sarà accanto fino alla fine dei suoi giorni e che lo ricorderà in un bel libro di memoria, Kandinsky ed io. E veniamo quindi a considerare il ruolo di Mark Chagall e di Vassili Kandinsky in quel periodo particolarmente turbolento per la storia russa. Se puoi andare avanti per favore. Non è infatti interamente russo il tempo di Mark Chagall che nasce, lo abbiamo detto, a Vitebsk, quieto villaggio della Bielorussia, per morire a Saint-Paul-de-Vance. La sua lunga parabola artistica 1887-1965 è caratterizzata da un legame profondo con la sua terra di origine, con la sua famiglia, con la religione ebraica alla quale appartiene. Chi avrà occasione di andare a Milano a vedere la rassegna che è in corso, lo noterà bene e l'abbiamo già sottolineato più volte. Pittore e poeta e visionario dallo sguardo incantato, l'anticonformista Chagall nel 1910 è già a Parigi, dove vive di stenti, lavorando alla Rusche, alveare di studi pittorici affittati a poco prezzo, a fianco di Chaim Soutine, del quale non condivide le macerazioni interiori. Qui rivisita il suo fantastico mondo russo alla luce di nuove soluzioni figurative. L'arte mi sembra soprattutto uno stato d'animo. Scrive nell'autobiografia La mia vita, scritta un po' presto, cioè a Mosca tra 1921 e pensate era nato nell'87, nel 21 c'era già messo a scrivere l'autobiografia. Nel 1914 è di nuovo in Russia dove sposa l'amata Bella, quella con cui volteggia mano nella mano nell'alto del cielo, in un momento di estasi tanto artistica quanto sentimentale. Io non ho scelto la solita Bella, ma questa bella, quella solita Bella, bella con la B maiuscola, cioè la moglie, ma questa immagine di Vitebsk, che mi sembra, che proprio esprime al massimo l'amore per le radici russe, per le radici bielorusse di Vitebsk e anche per la religione ebraica, perché abbiamo visto come tanti simboli ebraici ricorreranno sempre nella pittura di Chagall, l'ebreo errante, qui lo vediamo. Ecco la rivoluzione russa raccontata da Chagall nella sua autobiografia. Colpo di stato, Lenin presidente del Sovnarkov, Lunacharsky presidente del Narcomprost, c'è anche Trotsky e Zinoviev pure, Uriki controlla gli ingressi e dell'assemblea costituente. Sono tutti là e io a Vitebsk. Io posso fare a meno di mangiare per diversi giorni e restarmene seduto presso un mulino a osservare il ponte, i mendicanti, i disgraziati gravati di fardelli. Posso attardarmi davanti agli stabilimenti termali e vedere uscire i soldati e le loro donne con i rami di betulla in mano. Posso andare a zonzo in riva al fiume vicino al campo santo. Posso dimenticarti Vladimir Ilik Lenin e così pure Trotsky. E invece anziché starmene in pace a dipingere i miei quadri, ho fondato una scuola di belle arti e ne sono diventato direttore, presidente e tutto ciò che volete. Questo scrive Chagall. Marc Chagall invita Kazimir Malevich, pensate, la pittura totalmente opposta, pensate al quadrato nero su fondo bianco, ha le belle idee di invitare Malevich a insegnare proprio all'istituto d'arte da lui creato. Di quello istituto Malevich diventa direttore e ovviamente consumando una dolorosa rottura proprio con Chagall, incompatibili, non lo vedete. Ma al di là dei fatti contingenti, al di là delle rivalità ripicche, il modo di intendere la pittura di Chagall e di Malevich è estremamente diverso. Le immagini parlano ben chiaro. Malevich procede per la sua strada. Marc Chagall invece rientra a Mosca per dipingere i pannelli del famoso teatro ebraico e quindi nel 1922 lascia definitivamente la Russia per trasferirsi prima a Berlino e subito dopo a Parigi. Adesso vi leggo due liriche di Chagall, Chagall l'abbiamo detto era anche poeta, che spiegano bene il suo profondo rapporto con la terra natale. Dal libro L'angelo sui tetti che l'amico Angelo Cusmano, un amico di Genova, ha tradotto direttamente dal russo, dandogli un'impostazione, una poetica ritmica. Dunque, l'angelo sui tetti è anche la poesia che ho scelto. Ti ricordi di me o città mia, fanciullo porta sbattuta dal vento, fiume dalla memoria attrai un canto, ricorda chiaro e forte il giovinetto che qui sedeva sulle tue panchine sempre in attesa della tua chiamata. Là dove sorgon curve le tue case e si erge il pendio del cimitero. Là dove dorme il fiume fantasticavo in volo, tanto il volo, le giornate dorate. La notte però un angelo splendente fiammeggiava sul tetto e mi giurava di portare il mio nome in alte vette. Quindi qui c'è il legame proprio fortissimo con il suo paese natale. Poi vi leggo ancora un po' più lunghetta La Patria. Mia ospite è la luna a mezzanotte da quella terra che entra qui con noi e lì palpita rossa la bandiera proprio da noi, su quella vecchia strada. Lì, senza me, si è rinnovato il mondo. Il vento si affaccenda e par chiamare al banchetto di un grande matrimonio uomini d'ogni stirpe, in fitta folla. Lì la gioia dimostra il suo costume, un danzatore e i ferri di cavallo fatti intinnar nel mezzo della gente. Conquistata la libertà e la vita fu coi discorsi ardenti e col fucile. Sorgete su dalla profonda fossa, nonni, zie, tu cugina, tu vecchio nonno, perché d'ora in poi sarete nominati cittadini. Ora afferrami e portami alle vette, o nuve ardente, odo suon di campane in basso dove sono tetti e fumo. Ecco, sussurro, c'è la mia terra fra neve e sentieri, la mia anima sempre con te avrai, finché vivrò e finché fiato avrò. Io ti ho cantato con i miei colori, non so se a te è gradito questo canto, ma non girarti offesa, anche se son lontano e se la voce è stanta. I tuoi boschi, i tuoi fiori, la tua gente, vestiti io di Carminio, di Smeraldo e Topazio, ed il tuo chiaro volto dipingendo do una benedizione notte e giorno. Tu taci, patria mia, ma forse tu vuoi spezzare il mio cuore? Di giorno oppur di notte come posso trovare una preghiera che atteni un poco il fuoco del mio petto? Io sto qui, inginocchiato, con segreta, recondita speranza, e il sangue in calda fantasticheria ti mando. Il mio respiro, come sberganti lacrime, per tutta la mia vita. L'aria azzurra e fluttuante barcolla come un masso nell'altezza, ed io stesso, con lieve sorriso, muoio e giaccio in silenzio. Forse mia patria sei con me offesa, ma sono aperto qui, davanti a te, come bottiglia che appena stappata, od un vaso con l'acqua alla portata. Di anno in anno il distacco viene più forte, ma torno a te nel buio, e tu, mia terra amata, coprirai la mia tomba di cenere. Ecco, vedi il tema della... bellissima, vabbè, l'ho scelta anche se è un po' lunga proprio per sottolineare il legame sempre vivo di Chagall con la sua terra natale. E veniamo a Vassili Kandinsky, se puoi andare avanti, per favore. Beh, qui ho scelto la composizione quarta, uno dei quadri astrati di Kandinsky. Kandinsky torna in Russia nel 1914, dopo aver tanto viaggiato e dipinto, era nato nel 1866, quindi più vecchiotto di tutti, soprattutto dopo aver vissuto un'esperienza fondamentale a Monaco di Baviera, a partire dal 1896, insieme con Gabriele Münter, Varian Verevkin e Alexei Von Jaulensky. Il Kandinsky che torna in Russia è ormai un artista non giovanissimo e comunque già affermato. Infatti nel 1912 è stato pubblicato il suo libro Lo spirituale nell'arte. Nel frattempo, nell'11, a Monaco, sempre a Monaco, ha fondato il movimento Il Cavaliere Azzurro, ne abbiamo accennato parlando di Burliuk, insieme con Franz Mark. Nel maggio del 1912 l'editore Pieper pubblica il primo numero dell'almanacco del Cavaliere Azzurro, di grande formato e con illustrazioni a colori. Tra i saggi pubblicati figura IFOV, ve li ricordate, in Russia, appunto di David Burliuk. Il secondo numero della pubblicazione, sempre a cura di Kandinsky e di Mark, pronto per il 13, non vedrà mai la stampa. L'almanacco, il primo almanacco è una raccolta interdisciplinare, ancora, di testi di artisti e rappresenta un fondamentale strumento di sintesi delle tendenze artistiche e filosofiche dell'epoca, con radici romantiche, simbolistiche, freudiane e belsoniane. Più concrete sono le iniziative espositive del gruppo, per cui alla seconda mostra organizzata dal Cavaliere Azzurro, organizzata sempre a Monaco, partecipa anche Kazmir Maleni, ce l'abbiamo detto. Kandinsky ha già maturato in questi anni la sua personale svolta verso l'arte astratta, che pur tra sempre più rari riferimenti figurativi, si va articolando in impressioni, improvvisazioni e composizioni. Qui vediamo una composizione. Mano a mano il riferimento alla realtà è sempre più vago e praticamente inesistente. A Mosca Kandinsky viene coinvolto nel fermento culturale che prende corpo negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione. Collabora soprattutto nel settore della ristrutturazione dei musei, inserito nel Lizzo, reparto di arti figurative del Narcompros, parolaccia che significa commissariato del popolo per la formazione culturale. Insegna alle libere ufficine statali d'arte e all'università, organizza e dirige l'Istituto per la cultura moscovica. Ma quella russa è soltanto una tappa del suo intenso percorso verso la libertà creativa che solo l'astrazione gli può permettere. Nel 1921 abbandona la Russia per trasferirsi a Berlino da dove approderà poi alla Bauhaus fondata da Walter Gropius a Weimar nel 19 e poi trasferita a Dessau nel 25. A Mosca tuttavia ha dimostrato doti di organizzatore e di insegnante e saranno soprattutto questi a tornargli utili nel periodo trascorso alla Bauhaus prima del definitivo trasferimento a Parigi alla fine del dicembre del 1933 quando ormai in Germania l'aria si è fatta irrespirabile per i cosiddetti artisti degenerati. Anche lì un'altra dittatura stava buttando all'aria l'arte. Se puoi andare avanti per favore. Ecco tuttavia molte delle tradizioni russe restano nell'arte di Kandinsky dall'amore per la figura di San Giorgio che qui vediamo alla valorizzazione dei reparti regati alla vita contadina memore della sua giovanile esperienza di antropologo nella regione settentrionale della Vologda. Se puoi andare avanti abbiamo solo un'immagine della Bauhaus la solita che vedete sempre mi piace. Comunque in sostanza l'esperienza russa di Kandinsky degli anni della maturità non incide più di tanto nel suo cammino in quanto era già avviato verso l'arte astratta. La rivoluzione quindi accende grandi entusiasmi, suscita dibattiti ma il clima di euforia e di libertà che si respira in Russia non dura a lungo. Nel 1921 Lenin introduce la NEP, nuova politica economica che concede qualche apertura al libero mercato dopo l'avvenuta statalizzazione dei mezzi di produzione. Nel 1924 Lenin muore e per la società sovietica si apre una nuova era quella del vero e proprio regime e dei ferrei piani quinquennali. Anche l'arte non si sottrae a questo clima politico e sociale che concede poche divagazioni e molto poche libertà di iniziativa. Ma cosa fa nel frattempo Vladimir Mayakovsky? Si avvicina al nascente movimento del costruttivismo. Già la parola vi fa pensare che la libertà, la libera creatività è finita e che si sta creando qualcosa di nuovo. Movimento che vuole proporre una visione dell'arte in qualche modo funzionale alla struttura economico-politica della società che intende celebrare i primi passi verso l'industrializzazione da parte di una nazione ancora caratterizzata da un'economia prevalentemente agricola. E vuole comunque rimanere creazione artistica, il costruttivismo vero e proprio e lo vedremo e lo vedrete anche in mostra. Allora nel 1923 Mayakovsky si impegna in prima persona nel lancio della rivista Fronte di Sinistra delle Arti, l'EF, con lo scopo prioritario di superare certe posizioni puramente avanguardistiche e di dover necessariamente entrare in contatto diretto con i problemi connessi con la produzione industriale in una società socialista. La sintesi proposta da Mayakovsky è lapidaria. Il costruttivismo deve diventare suprema ingegneria formale di tutta la vita. La copertina del primo numero di Left è opera di Aleksandr Rodchenko. Di Rodchenko parleremo tra breve. Ma la vita preme intorno ai giorni sempre più brevi e sempre più intensi di Mayakovsky che scrive ancora La Cimice e Il Bagno, due lavori teatrali che intrecciano le delusioni politiche a quelle sentimentali. Se La Cimice lascia intendere l'incognita del futuro in un mondo sconosciuto a una persona rimasta ibernata per 50 anni, Il Bagno si risolve in una spietata satira contro il burocratismo riemergente dopo gli anni bollenti della rivoluzione. Il 14 aprile del 1930 Mayakovsky si uccide con un colpo di pistola. Il mistero di ogni suicidio, forse non soltanto per via del suo tormentato rapporto d'amore con Lilia Brick, a sua volta moglie di Osip Brick, uno dei letterati a lui più vicini. Il costruttivismo come movimento artistico si sviluppa quindi in Russia a partire dagli anni venti del ventesimo secolo con l'idea di dare un contributo creativo alle effimere speranze suscitate dalla rivoluzione. Si è appena fatto cenno al contributo teatrale portato da Vladimir Mayakovsky a questo movimento. Ma nell'ambito del costruttivismo, prima che ripieghi verso la deriva del più bieco realismo socialista, spiccano due personalità particolarmente interessanti. Quella di Alessandro Rocchenko, l'avevamo accennato, e di Vladimir Tatlin, che peraltro avevano già fatto parte dei gruppi di avanguardia degli anni antecedenti alla rivoluzione, ma che soltanto in questo nuovo contesto storico-artistico, quello del costruttivismo, trovano la loro massima originale. Alexander Rocchenko è artista alquanto poliedrico, pittore, fotografo, scenografo, grafico, scultore, architetto e disegnatore. E se puoi andare avanti per piacere, collabora con Mayakovsky in numerose iniziative. Questa è una fotografia che Rocchenko ha scattato a Mayakovsky. Innovatore in ogni campo dell'arte, si pone sempre contro quello. Sua è la foto del corpo di Mayakovsky subito dopo il suicidio, ve l'ho risparmiata, vi ho fatto vedere un Mayakovsky vivo e anche un bell'uomo, appunto, ultima testimonianza di un'amicizia vera e di un importante sodalizio artistico. Rocchenko crea costumi teatrali, sculture spaziali, mobili funzionali, manifesti. Lavora molto per la pubblicità. A partire dal 1923 usa il fotomontaggio, poi se volete ne faccio vedere uno da questo testo, questo catalogo di una mostra che parla appunto soprattutto di Mayakovsky e del regista teatrale Mayakovsky. Usa il fotomontaggio per illustrare riviste ed anche cartelloni pubblicitari, allo scopo di trasmettere messaggi anche di carattere politico alle masse analfabete. L'immagine è sempre stata, fin dai tempi della controriforma, la Bibbia degli analfabeti. Se puoi andare avanti, anche se per quanto in un contesto è tutto ben diverso, si cimenta con i ritratti e con le copertine della rivista Leff, ha rapporti con la tedesca Bauhaus, Riecola, e soprattutto con Mologhi Naghi. La fotografia sembra essere al centro dei suoi sempre più molteplici interessi. Qui vediamo una fotografia scattata da Rocchenko. L'ho scelta per quei giochi di ombre che fa ricordare un attimo anche l'edificio della Bauhaus e quei pieni e quei vuoti che avete visto prima. E poi perché io di cinema non me ne occupo molto, ma abbiamo tutto in mente, penso, guardando questa scalinata, la scalinata della corazzata Potionchi di Eisenstein. Eisenstein è stato un regista che ha fatto parte di questo gruppo di Alanguaria. Noi qui non parliamo di cinema, volevo solo citarvi, visto che abbiamo un attimo di tempo, una curiosità. Majakowski fece anche delle piccole pièce cinematografiche, perché il cinema allora attirava molto gli artisti, una delle quali la signorina, il teppista, è tratta da una novella di Edmondo de Amicis, La maestrina degli Operai. No, questa era solo una piccola curiosità. Angela Maria Ripellino dice che non è una delle più riuscite, la maestrina degli operai, per dire i legami culturali importanti che ci sono stati fra Italia e Russia, anche se le comunicazioni è anche quella che erano. Ho scelto questa foto di Rocchenko proprio per questo particolare. Dal punto di vista pittorico abbiamo un bel quadro di Rocchenko alla mostra di Palazzo Chiablese. Rocchenko ha attraversato il linearismo per approdare ad un'attività di grafico e di fotografo che gli consente di sopravvivere al regime stalinista. Tutti gli altri hanno avuto difficoltà, lui facendo il fotografo e di grafico riuscì a sopravvivere. Si interessa anche di cinema, appunto arte allora ai primi passi. E veniamo infine a Vladimir Tatlin, di professione inizialmente fa il marinaio per cui ha occasione di viaggiare parecchio. Mai noto soprattutto come pittore, architetto e scultore. Se puoi andare avanti per piacere, alle sue creazioni conferisce una genialità particolare proprio nel periodo in cui il costruttivismo è ancora un movimento colmo di speranze per la società futura da costruire. A Parigi è occasione di conoscere Pablo Picasso e questo incontro non cade nel marina. Tatlin viene ricordato soprattutto per due opere. Il progetto mai realizzato per il monumento della terza internazionale e per il Le Tatlin. Qui vediamo il progetto per il monumento della terza internazionale comunista, ipotizzato fin dal 1910. È una ambizione grandiosa, con l'idea iniziale di superare in altezza addirittura la pure esterna. Rimane un progetto. Il progetto di Tatlin prevede tre ambienti sovrapposti l'uno sull'altro. Non so se è una riminiscenza del trasformare la pittura in sfera cilindri volevano e cono di Cézanne. Comunque si tratta di un cubo di una piramide di un cilindro che dovrebbero ruotare a tre velocità diverse. La parte inferiore è la foto di un modellino che si può pretendere in più di tanto. Il cubo è destinato a congressi e conferenze e avrebbe compiuto un giro all'anno. La piramide centrale, sede di organismi dell'internazionale, avrebbe compiuto un giro al mese, mentre il cilindro, lo vede meglio, ha diviso all'ufficio stampa dell'internazionale stessa un giro al giorno. I poveretti, non so come avrebbero fatto. Nulla di tutto ciò, per fortuna dei giornalisti, perché l'ufficio stampa un giro al giorno, si realizza, ma resta il sogno dell'utopia e un bel progetto da affidare agli storici dell'architettura. Si trova in tutti i trattati di architettura. Invece, se puoi andare avanti, l'ultima diapositiva è il letacling. In mostra c'è il soffitto buttato là, un montante dialare delle tattling. Che cos'è? Dunque, tattling volante. È una parola sintetica dal verbo russo a tattling, che è un oggetto concepito da tattling, sempre a fine degli anni venti. Questo è poi una specie di bicicletta dalle ali di seta, che nelle intenzioni è un apparecchio per volare e che per fortuna non volerà mai nessun incaro per carità. Lo vedete in mostra. Il nome dell'oggetto in questione appunto deriva dal neologismo risultato dal verbo volare e dal cognome di Papio. Ecco, dopo la stagione eroica, quindi fin qui abbiamo ancora, il costruttivismo ancora si impone ancora con delle iniziative di creatività. Però subito dopo, abbiamo detto che lui muore nel 24, Stalin non apprezza molto questa libertà di creatività artistica e inizia per l'Unione Sovietica il periodo del realismo socialista e della dittatura di Stalin. Ma allora non c'è più spazio per la ormai fu avanguardia. Ecco, grazie, io avrei finito. Grazie. Grazie.